E io so come sono successi i fatti. Per esempio, bisogna praticamente avere l'idea, ma non so se per esempio i carabinieri so che non sono così furbi come pensavo io. Cioè per esempio tutte le tecniche investigative c'è per scoprire come si svolge un fatto e non è facile. Per esempio, se io penso per esempio delle cose che ho scoperto, per esempio, cioè come si fa? Per esempio, se io prendo per esempio uno, devo fare finta una cosa che gli hanno detto, cioè vi spiego meglio. Gli avevano detto che se io per esempio aveva sentito lui dire da un medico che se lui era ricoverato in un ospedale non poteva essere in tribunale quel giorno. Cioè una persona come mio padre, no? Che fa queste cose per sentito dire di un fatto. Cioè praticamente è come se io mi regolo in base a quello che sento e faccio di conseguenza le cose per essere sicuro che loro pensano quello che dicono loro e non quello che faccio io. È come se io per esempio faccio quella cosa apposta perché l'ha detto a lui, perché lui ha detto che in quel caso è sicura una cosa. Cioè se a me quella cosa mi serve per difendermi, per dimostrare la mia innocenza, la faccio apposta. Cioè lui si è fatto ricoverare con l'ambulanza a Reggio Calabria una volta, prima del maxiprocesso, poi gli hanno portato la macchina e è uscito e lo hanno chiamato prima di uscire per essere sicuro che era ricoverato. Ma questa cosa qua, voi non ci credete, io l'ho vista a casa. Ci ho visto mio padre ripreso con la barella, portato in corridoio per le scale da solo. Cioè praticamente solo perché lui era fissato che quel medico gli aveva detto la verità. È una cosa proprio allucinante. Cioè se io praticamente faccio così, chiamano poi l'ospedale, lo faccio arrivare al telefono, dico sì, devo stare qui un anno perché sono malato di tumore. Dicono che mi devo fare la chemia, così gli aveva detto. Poi dice il padre, va a casa, esce con la maglia, la porta per esempio il generale di mio zio Pepe, gli porta la macchina sotto. Lui se ne va con la macchina, lui avanti, lui dietro per essere sicuro che sta bene. È un bordello. Cioè quello che ho visto è uno schifo perché è uno scandalo impersonano. Cioè non so io come si fa a fare queste cose qua. Si va a casa, poi all'ospedale si denuncia pure perché praticamente dice mio padre quello è il reato. Cioè praticamente avevano preso queste cose, lo avevano aiutato. Loro, loro li hanno denunciati perché in pratica all'ospedale li aveva aiutati. Come se mio padre sa benissimo che lui è un uomo mafioso. Cioè praticamente poi che è successo? Poi è successo che in pratica prima del macchina processo qualcuno è sceso apposta a Palermo per uccidere Falcone. Cioè praticamente è come se io faccio una serie di telefonate apposta per creare praticamente la situazione. Cioè come si fa? Io per esempio chiamo prima Loro Corlando, gli dico se lei è d'accordo con me col processo per essere sicuro che lui non è un traditore. Poi se non è un traditore che faccio? Chiamo per esempio il presidente e vedo se sono amici con Loro Corlando. È un bordello, l'ho visto fare. Cioè praticamente ha chiamato Francesco Corsico e gli ha detto di no che Loro Corlando non è amico suo perché il sindaco di Palermo è mafioso per forza perché se no non lavorava. Un bordello. E poi praticamente il mio padre che ha fatto? Praticamente quella assenza che c'è stata per esempio il 23 maggio organizzata apposta è come se Francesco Corsico aveva chiamato Giovanni Falcone per venire a Roma perché gli dovevano dare il permesso per continuare perché qualcuno si era lamentato. È come se io vado a Roma a prendere il permesso e torno con la sicurezza che me lo danno perché queste persone avevano disturbato. Ma se io durante questa assenza prendo e lo ammazzo, prendo quello è un rischio troppo grosso perché se io so che non era tutto difeso bene è come se in quel periodo le protezioni che c'erano non c'erano. Capito? Grazie.